buongiorno a tutti ragazzi buongiorno buon lunedì buon inizio di settimana e per qualcuno sarà un inizio di settimana ottimo ottimo la mattina si va a incassare allora ovviamente la previsione noi l'abbiamo già chiusa perché non ci fermiamo e andiamo avanti e passiamo alla prossima allora anche perché per la prima volta per la prima volta questa previsione della tecnica infallibile parte 3 verrà messa sui nostri gruppi in contemporanea per far vincere in massa e sarà postata anche nel servizio telefonico perciò tutti quelli che sono abbonati non c'è bisogno che chiamate raramente facciamo queste cose ma siccome è una previsione pronto a regalarci un bellissimo ambosecco come il 53 55 vogliamo che questa previsione la prendano veramente tutti quanti perciò chi non è abbonato può chiamare da questa mattina alle 9 può chiamare c'è una bellissima previsione un bellissimo allora non c'era il 90 ma la tecnica chiama il 90 ma il 90 non è il il solito 90 ok tecnica che funziona da anni e che da anni ci regala sempre l'ambo secco non ha mai fatto il terno ve lo dico prima ma sempre fatto l'ambo secco e sarà la nostra giocata primaria la stessa potenza della tecnica infallibile parte 2 che ci ha regalato 53 55 secondo colpo in ambo secco perciò questa mattina la troverete nel servizio telefonico e troverete anche attenzione l'ambo vertibile perché non dimentichiamo l'ambo vertibile un terzo colpo altra tecnica bellissima che a parte il 44 49 ci ha sempre pagato questi ambi vertibili anche sabato 76 90 sulla nazionale e 76 e 1 su palermo dopo aver preso 76 90 proprio su palermo vabbè allora questa la trovate nel servizio telefonico pronti per lambo secco su questa giocata un eurino di più sul lambo è un eurino di più di meno sul lambetto perché è predilige lambo secco allora ragazzi gruppo matos per entrare vi abbiamo dato due opzioni vi consegneremo la tecnica infallibile più un mese di abbonamento a 30 euro o solo l'abbonamento 10 euro questa vale solo per oggi da domani se volete abbonarvi non avrete più la tecnica lo facciamo solo per oggi per tutti coloro che si vogliono abbonare e avere la tecnica infallibile solo per oggi possono prendere questa cosa qua ok piccolo problema tecnico scusate capita quando siamo in diretta allora tecnica infallibile più un mese di abbonamento a 30 euro solo per oggi solo per oggi ok da domani questa promozione non la trovate più trovate solo l'abbonamento se invece non vi interessa la tecnica l'abbonamento al nostro matos a 10 euro per un mese ragazzi io scappo perché oggi anche capitano oggi va a incassare mi raccomando dalle 9 vi aspettano per rispondere alle chiamate con la nuova previsione della tecnica infallibile parte 3 con 90 per capitano è tutto un grosso beso ciao